Per l'incazzaro.it questa sera parliamo con Fabio, portavoce dell'associazione Pianura Verde, unica realtà associativa a pianura che si occupa di riqualificazione ambientale degli spazi verdi, praticamente va a sostituirsi alle istituzioni quando queste proprio vengono a mancare. Fabio, quali sono le ultime attività da voi svolte? Allora, innanzitutto noi nasciamo circa un anno fa, nel maggio del 2013, da un gruppo di cittadini, la maggior parte siamo residenti a pianura, ma c'è anche qualche altro amico che abita in zone limitrofe al quartiere. Il nostro intento è quello di lotta al degrado e per degrado si intende innanzitutto tutto quello che concerne la crisi dei rifiuti che per anni ha affossato la città di Napoli e soprattutto il nostro quartiere. E tanti spazi verdi che sono su queste aree erano sostanzialmente delle discariche a cielo aperto. Noi abbiamo fatto diversi interventi, tra cui il primo al Polo Artigianale, di recupero di queste aree, da destinare poi ai nostri figli e ai nostri nonni, a chiunque voglia passeggiare e trascorrere qualche ora in totale libertà. Questa aiuola è l'ultima testimonianza della nostra attività ed è stata recuperata domenica mattina. Oltre a recuperare però le aree verdi del quartiere, siamo in stretto contatto con Asia Napoli per pubblicizzare le corrette prassi nel conferimento dei rifiuti e proprio domenica abbiamo fatto volantinaggio perché a breve partirà una nuova direttiva sul conferimento dei rifiuti. Ossia ci saranno dei contenitori magenta dove verranno versate tutte le frazioni secche, quindi plastica, metallo, alluminio, vetro, carta e cartone e quelli lì marroni che già sono stati posizionati in parte sul quartiere che sono destinati all'organico, quindi allo smaltimento della frazione organica. Per noi è un punto fondamentale informare la cittadinanza perché ci rendiamo conto che la maggior parte delle persone sono un po' pigre e l'informazione gliela devi portare quasi a casa sostanzialmente. Detto questo cerchiamo anche collaborazioni con altre associazioni della città di Napoli e un altro punto di nostro interesse è quello di poter fornire il quartiere di qualche campo sportivo all'area aperta, tipo come possono essere su Via Napoli a Pozzuoli per dare l'opportunità ai ragazzi comunque di svolgere attività all'aperto perché questo è un quartiere che ha bisogno di dare qualcosa ai giovani. Ricordiamo che c'è il tasso più alto di giovani, proprio il quartiere più giovane di Napoli e siamo stanchi di vedere solo dei bar che magari faranno caffè buonissimi o dei centri scommesse, ma qui c'è bisogno di altro. C'è bisogno di scuole, c'è bisogno dei campi, c'è bisogno di centri di aggregazione. Fabio, considerando che la vostra è un'associazione formata, strutturata solo da volontari dal punto di vista invece dell'apporto istituzionale, siete in qualche modo organizzati? Avete aiuti anche dal punto di vista strettamente formale di autorizzazioni o lavorate solo per attività di guerriglia gardening? No, no, anche le nostre attività di guerriglia gardening sono comunque avallate dalla municipalità nel senso che nel momento in cui noi individuiamo un'area verde da recuperare comunque facciamo richiesta alla municipalità per l'attività che verrà svolta. Quindi ci muoviamo in totale legalità, siamo totalmente autofinanziati e ci divertiamo tanto comunque. Al di là di tutto siamo un bel gruppo e è anche bello stare insieme e condividere delle ore e fare qualcosa di bello per il quartiere. Quindi veniteci a trovare e partecipate attivamente alle nostre iniziative. Grazie a tutti.